Iniziano ad esu i playoff della palacanestro Cantugara, uno dei quarti di finale tra i Brianzoli e Cividale si gioca domani alle 18. La serie si preannuncia come una delle più avvincenti perché a rispetto del settimo posto finale l'avversario è la squadra che esce dalla fase a orologio con il miglior stato di forma grazie all'orulino di marcia immacolato tenuto nella seconda fase. Dietro la serie dei successi e dei friulani c'è indiscutibilmente la mano di quello che è considerato il miglior allenatore della passata stagione di A2 Stefano Pillastrini. Il coach ferrarese ha consegnato le chiavi della squadra a Lucio Redivo che ha risposto con una fase a orologio chiusa oltre 18 punti di media. Al suo fianco completa il pacchetto delle guardie titolari Doron Lamba, giocatore che in carriera vanta un centinaio di partite giocate in NBA. Iniziano i playoff, sarà una serie difficile e adesso le parole stanno a zero. Ha detto l'allenatore di Cantù deve scagnarli alla vigilia del match. Incontriamo una squadra che sappiamo essere forte e in grande ascesa. Giocano una pallacanestro efficace e solida. Stanno volando, aggiunge, sulle ali dell'entusiasmo degli ottimi risultati ottenuti negli ultimi mesi e del loro rullino di marcia immacolato. Sappiamo, conclude, che sarà difficile ma saremo pronti a dare battaglia.